Il bagno il primo dell'anno, anzi anche il primo dell'anno, difficile con questo mare, come una tavola, rinunciare a fare un tuffo per chi è abituato a immergersi tutti i giorni. Fa bene alla salute di grandi e piccoli, dicono a Biceglie. Non fa freddo. No, assolutamente, anche perché noi siamo abituati. C'è da sottolineare un aspetto e io ci tengo. Il mare per noi è veramente una risorsa, nel senso che ci fa stare bene, perché rafforza l'anima, rafforza il corpo e ci aiuta a trovare quelle energie positive per affrontare i problemi della vita. A Trani la giornata di sole, particolarmente calda, ha favorito l'uscita in barca. I volontari del WWF ne hanno approfittato per liberare una tartaruga caretta caretta curata nel centro di recupero di Molfetta. Ospite d'eccezione il cantante dei Pudo di Battaglia, reduce dal concerto della notte. In Puglia mi sento a casa, perché è un po' la mia seconda casa e io, come molti emiliani, spesso vengo qua e ogni volta che vengo a suonare qua mi trattengo, perché, vabbè, la Puglia, the best. Gente in acqua anche a Barletta, sulla diga foranea. La bella giornata ha invogliato i più coraggiosi, ma non solo. L'anno si apre in bellezza. Chi ama il mare sarà sempre libero. Vi auguriamo un buon anno di salute a tutti quanti. Chi non ci wordtita. Chi non ci è fai na для loro. Chi non paz caveat. Chi non mi pazουνia?